ciao a tutti allora video get ready with me e si lo so anche io in questo momento odio tantissimo il fatto di truccarmi con la franza davanti ma le opzioni erano due o non giro get ready with me per tre settimane oppure vi beccate la frangia che forse più che voglio da fastidio a me perché questa cosa perché ovviamente devo nascondere quello che sta avvenendo nelle mie rughe centrali della fronte intanto stavo cercando un primer che cosa posso usare oggi usiamo lui tanto comunque la fronte non la devo truccare a me da fastidio lo stesso perché mi piace vedere il viso scoperto però allora inizio con il primer di questa di nars potrei spostare solo questi in effetti non ci avevo pensato vabbè ormai purtroppo ma purtroppo tra virgolette che poi vi spiegherò bene nel video che sto registrando step by step però sono necessarie più sedute per quanto riguarda le mie rughe della fronte quindi è un po più lunga però dovrebbe meritare il fatto che sia più lunga non che si risolva tutto in una seduta c'è un motivo dietro volevo provare oggi con voi un po di un po di novità e non solo altre cose non nuove che cos'è c'è qua oggi registro con sto lenzuolo bianco perché vediamo volo provare a vedere se con uno sfondo bianco per get ready with me fosse l'ideale anche se a me quello che ho usato nel video della postazione make up piace molto però è il colorato quindi forse non lo so se in alcuni casi può falsare qualcosa la mia idea sarebbe quella che la mia idea sarebbe quella di provare diversi sfondi cioè usare sfondi diversi in base alla tipologia di video vedremo se poi sarà così ero indecisa se usare con voi la mini palettina di denona nuova o questa di fenty beauty preferisco questa di fenty beauty perché in realtà avevo in mente un trucco in mente un trucco naturale cioè naturale nel senso con toni neutri quindi le ho attaccate ma sono belline però avesse così poi occupano pochissimo spazio dentro il coso qua da fare sono 12 ombretti quindi neanche pochi allora tendenzialmente pensavo di usare questa qua che è la numero 7 questa qui quindi credo di usare questo qui luminoso sulla palpebra mobile e forse questi due adesso vediamo intanto prendo questo qui ho messo questa maglia grigia c'è il grigio identico nella palette però mi sono truccata ieri di grigio quindi non avevo voglia di rifare un trucco grigio adesso vediamo madonna però non si può no devo almeno spostare quelli laterali no fa troppo ridere questa cosa bellissima vabbè però almeno vedo la parte più alta del sopracciglio comunque è stata una furbata quella di farmi la frangia di rifarmi la frangia proprio in questo periodo beh che per fortuna non ho avuto lividi ematomi cose niente però insomma per nascondervi il progredire della cosa è stato strategica allora questo ombretto qui mi sembra io sto andando per gradi però mi sembra un po' leggerino però mi può star bene per il tipo di colore che è che ho notato tante differenze di qualità tra una paletta e l'altra di queste di Fenty al tatto ovviamente poi nell'utilizzo io vi posso parlare solo di queste due poi dalla palettina lolita di Marc Jacobs che adesso ce l'ho portata di mano prendo questo panna qui che ecco si vede che è bucato ho usato poco questa paletta prendo il panna lo metto sotto il sopracciglio ok ci ho ripensato e pensavo di usare comunque questo grigio qui cioè l'ho usato ieri però oggi ci sta intensifico solo la parte esterna della piega prendo un pennello fitto però tipo questo qua questo è boh il pennello cinese che non so neanche dove ho comprato questo mi piace moltissimo mi ricorda il grigio della palettina di Smashbox e adesso vi dico quale di questa qui che si chiama questa è la Covershot Prism Eye Palette cioè questo grigio che io adoro penso di sfruttare anche parecchie perché è un grigio in base blu che mi piace moltissimo onestamente mi sembra che non c'è un zacchino niente sto grigio con sto marroncino cioè io adesso l'ho usato perché era nella stessa palette l'avrebbe nato un'altra cosa però vabbè lo facciamo andare però mi piace la pigmentazione mi piace anche come si posiziona nel senso che non fa fallout rimane abbastanza intenso ieri con il trucco che ho fatto con questa palettina ho usato soprattutto il glitter che c'è nell'altra quella dall'altra parte ve l'ho fatto vedere nel video haul resa ottima ottima veramente cioè non ho usato neanche una base per glitter per dire cioè perfetto mi ha sorpreso piacevolmente il colore è bellissimo non ho molti argomenti oggi da affrontare è che sto preparando tanti video ma sono video che vedranno la luce fra chi tra un mese chi fa tre settimane eccetera quindi in questo momento sono un po' accorto di parole mi sa che prendo un pennellino più piccolo tipo questo simile il 2017 di MAC ma questo è di Morphe oh sì ieri mi sono rifatta gli occhiali da vista perché ultimamente a parte che quelli che ho sono vecchi vecchissimi a parte uno però volevo anche rifare una visita oculistica infatti mi è peggiorata l'ipermetropia l'astigmatismo identico però mi è aumentata di mezzo grado l'ipermetropia dell'occhio destro e allora con la scusa mi sono rifatta anche degli occhiali da vista nuovi ma soprattutto volevo un po' di occhiali da vista totalmente diversi da quelli che ho che sono bellissimi mi ero fatta anche una foto però ho detto no ormai aspetto che mi arrivi no anche perché in foto non sembrano granché invece dal vivo secondo me mi stavano meglio cioè non credo che sia la montatura che mi dona di più però io li prendo sempre uguali sempre con la stessa linea eccetera ho detto ma se me li devo rifare nuovi almeno cambiamo altrimenti tanto vabbè io li uso 90% in casa c'è da dire però questi ci potrei anche uscire che sono molto cioè fanno molto accessorio accessorio fashion e poi sono oro rosa sono impazzita comunque ah ecco cosa potevo qui fervono già i preparativi per il Cosmoprof io avrò due ospiti a casa in giornate diverse ve lo dico una meglio dell'altra non so se svelarvele adesso vi faccio un po' e comunque ridendo e scherzando mancano meno di due mesi al Cosmoprof due mesi appena poco meno di due mesi ho fatto un ordine su Zalando il primo ordine della mia vita che faccio su Zalando non l'ho mai ordinato mi piace molto lo stile di cioè il metodo di Zalando Zalando, QVC e Amazon credo siano fra i siti più smart che esistano Amazon non si batte Amazon è una droga una droga cioè veramente per comprare letteralmente qualsiasi cosa io voglio anche mantenere gli acquisti in negozio ragazzi ma certe volte ve lo giuro vi racconto questo episodio non mi ricordo se ne ho mai parlato quando io decisi di comprare la Reflex circa due anni e mezzo fa due anni mi ricordo era periodo di secondo me dicembre credo sì perché credo di averlo comprato sì l'ho comprata con la tredicesima quindi sì era decisamente dicembre sto insistendo perché lo voglio sfumare bene decisi di comprare sta benedetta Reflex allora ero veramente nel pallone perché se io guardo i tuoi video eccetera però non riuscivo a decidermi penso vado nei negozi specializzati e di solito lì hanno gli addetti al reparto magari mi sanno consigliare a parte ah c'è un ragazzo che si chiama Daniel Greco che ha fatto dei video sui commessi dei negozi ne ha fatti due ha fatto di recente ha fatto la seconda parte e tra i commessi che si prende simpaticamente in giro ci sono quelli di Media World ecco azzeccatissimo a parte che per trovarne uno dovete fare la caccia al tesoro se lo trovate difficili non sto generalizzando ovviamente sempre da specificare ma voi avete mai beccato qualcuno in grado di consigliarvi io in quell'occasione sono rimasta sconvolta perché e sono stata sia da Media World che da un euro dove poi alla fine l'ho comprata ma solo per caso perché ho trovato un sottocosto altrimenti l'avrei comprata su Amazon però quello che ho fatto io alla fine dopo essermi rivolta a qualcuno lì e io tra l'altro ho chiesto solo due cose perché io sapevo volevo qualcosa di sì da non spendere duemila euro perché duemila euro grazie a cacchio che trovavo qualcosa di fighissimo però tanto mi giusto se no non finisco più allora voglio usare questo qui però con il dito rigorosamente perché ho già visto che la sua resa è così ed è bellissimo questo colore cioè guardate che roba vabbè bellissimo questo ombretto innamorata insomma io sono andata diretta e ho chiesto guarda io cerco voglio una fotocamera reflex o mirrorless ma tanto già sapevo che i prezzi all'epoca per forza una reflex mi sarei presa con quel prezzo lì che potevo spendere io l'importante che abbia queste due caratteristiche poi tu dammi quella che secondo te può essere il miglior compromesso dove avere lo sportellino ribaltabile ovviamente per potermi vedere e l'ingresso per un microfono quindi un jack audio e voi non potete capire perché queste due cose contemporaneamente non consistevano o nei modelli da mille euro in su ma non è anche neanche detto perché ci sono delle delle reflex e fotocamere che non ce l'hanno ma perché non ce l'hanno perché chi si compra i fotografi non gliene frega niente dell'ingresso audio però per il mio scopo mi serviva così e non è facile per niente da trovare ora io non dico che lui dovesse ricordarsi a memoria tutte le caratteristiche di tutti i modelli eccetera eccetera però cioè vi dico che mi ha praticamente abbandonata lì allora a quel punto ho detto ma sai che ti dico cioè io ci provo a comprare il negozio ma perché il plus del negozio dovrebbe essere una persona in grado di consigliarmi prendo dalla biba dalla biba l'ombretto non fa parte della biba ma fa parte della palette numero 5 di Natasha Denona comunque questo ombretto qua perché perché ha i riflessi ha gli stessi riflessi però a differenza di quello di Fenty siccome lo voglio posizionare qua quello di Fenty l'ho posizionato l'ho fatto ieri ma solo con la colla o con le dita con le dita non ci arrivo quindi lo metto con questo quindi quando determinate catene che oggi come oggi piangono un po' per il fatto che esiste Amazon la gente compra su Amazon dovrebbero forse valutare questa cosa io anni fa feci dei corsi che riguardavano tecniche di vendita e cose del genere metto lo stesso grigio lo metto sotto e si parlava proprio di questo oggi il cliente su Amazon trova le cose su Amazon in generale su internet Amazon ha diciamo accentuato la cosa soprattutto per la velocità di consegna oltre che per i prezzi convenienti ma a volte non sono così che non sono molto più convenienti è che semplicemente è la comodità che vi arrivi a casa soprattutto nei paesini ragazzi i paesini quelli di montagna lontani dalle città dai negozi eccetera ma io che ho fatto la postina sulle montagne come vi dicevo la gente che ha scoperto Amazon è impazzita perché cioè si vedeva recapitare le cose in due giorni perché lì Prime funziona un po' diversamente in due giorni che comunque non è neanche malaccio letteralmente qualsiasi cosa poi nei posti più sperduti tra l'altro quindi immaginate la loro felicità comunque è un abbinamento un po' particolare perché il grigio è molto freddo e poi c'è questo meretto luminoso che è abbastanza caldo insomma non credo di mettere matita nera ma ho un nuovo acquisto che però mi sa che non ve l'ho fatto vedere non credo no mi sa che nel video me la so dimenticata questa matita che ho comprato per colpa di Simona o la Spage di Marc Jacobs che si chiama Irony si chiama Irony che è di Marc Jacobs ed è di quelle automatiche di questa usai la nera e la metto nell'anima interna ma solo su metà quindi non su tutto l'occhio però la metto anche sopra questa è super waterproof ed è ottima da sfumare l'attaccatura delle ciglia già provata è un colore particolare perché non è nera non è marrone non è grigia è via di mezzo è molto bella solo che nella parte iniziale così non mi piace quindi vediamo di metterci qualcosa ci metto un matitone un pizzico di matitone questa è di Anast... no questa è di Kella Beauty vabbè ma ce ne sono pure da Kiko ritrovate questi prima di passare al mascara metto un pochino di Fast Response eye cream così nel frattempo si assorbe e agisce la metto sempre a questo punto del trucco così do il tempo di agire e non vado a mettere immediatamente sopra il correttore allora l'ombretto dorato mi ha fatto del fallout prossima volta lo picchiettiamo sopra la colla per glitter sì adesso ce l'ho tutto nel contorno occhi un bel po' di fallout lo sorei dire però è bellissimo devo dire che è di una luminosità pazzesca non vi sto consigliando queste palette le devo ancora valutare la miglior valutazione è non tanto quante volte si utilizzano quanto più il fatto di sentire il bisogno cioè la voglia di cercare quelle palette io oggi avrei voluto tanto provare quella di Marc Jacobs che ho comprato però mi sembrava quelle erano le limite d'edition quindi mi sfido molto delle palette di Marc Jacobs quindi non ho molti dubbi volevo prima magari parlarvi di questo che essendo anche la novità può essere più interessante allora vado a piegare le ciglia piega ciglia di Mulac avete notato anche voi che ultimamente ho le ciglia più folte più lunghe da un mesetto questa parte circa sto usando il Revitalash di nuovo perché me l'ha regalata una mia amica la Minitaglia e io vedo la differenza l'avete vista anche voi su beh che nell'info box se non ricordo male io avevo messo di default il video quello in cui ne parlo però eventualmente ve lo rimetto non mi ricordo se c'è perché per me è come Revitalash non ce n'è mascara mascara proviamo questo nuovo mascara di Fenty Beauty io l'ho provato ieri per la prima volta non mi è dispiaciuto l'unica cosa che aveva un trucco molto scuro quindi non si vedeva granché mi sembrava facesse poco volume però c'è anche da dire che il tipo di trucco che avevo non lo valorizzava di per sé quindi andiamo a vedere oggi lo scumolino fatto così praticamente vedete piatto largo dall'altro io credo non ho visto le tecniche di applicazione però mi trovo bene a metterlo un piatto appoggiato alle ciglia così da fargli rilasciare un po' più di prodotto alla base sicuramente ha bisogno di due passate perché con una passata è molto insignificante però ieri sera quando l'ho struccato era fantastico è leggerissimo sulle ciglia si è struccato facilmente ma non mi ha dato problemi di durata ma le ciglia erano morbidissime probabilmente il mascara più morbido sulle ciglia che abbia provato questo sicuramente poi per diciamo la bellezza dell'effetto quello magari ci vorrà anche un po' cioè sicuramente ci vorrà anche un po' questo secondo me è un po' più denso guadagnerà un po' di più infatti mi sa che stanotte lo lascio aperto un pochino aperto so chiuso così vediamo se perché sennò io con questo effetto naturale non lo vado a cercare più però mi aveva colpito questa cosa dello struccaggio perché veramente morbidi sembrava quasi non avessi il mascara toccando le ciglia era fantastico speravo che con questo dorato così ombretto più chiaro si potesse notare di più però vedo che si nota da comunque poco chi sa lì come si vede abbiamo visto mascara più drammatici però non tutti vogliono un mascara drammatico sicuramente è abbastanza ordinato quindi non non raggruma le ciglia però io sapete perché mi ispirava a prenderlo perché ultimamente mi sto trovando bene con queste forme ovali di scovolini con quello di pupa con quello di clarence che tra l'altro adesso è ancora meglio che è maturato è il 4d di clarence tra l'altro stamattina ho visto il video di mr daniel sui top 2019 finalmente anche lui ha capito anche lui hanno spiegato che si dice clarence e non claren niente per ora è troppo naturale decisamente stasera lo lascio aperto anzi lo lascio aperto adesso e stasera lo chiudo perché se no io così non lo uso più già mi conosco fondotinta allora fondotinta io in realtà oggi avrei usato volentieri il mio fantastico stay naked però vabbè anche perché l'ho ordinato finalmente l'ho ricomprato perché mi devo limitare nel suo utilizzo solo perché ho paura di finirlo e voglio portare avanti gli altri ma che cacchio se ne frega quindi però diciamo che ho detto vabbè oggi vi faccio vedere magari questo fondotinta io l'ho già provato diverse volte ed è quello nuovo di NYX si chiama Born to Glow e c'è anche adesso è uscito il nuovo correttore non è proprio il mio colore preciso perché questo è Warm Vamilla ma è un pochino scuro ce lo facciamo andare bene tanto il collo abbastanza coperto però è un pochino scuro effettivamente è molto giallo tra l'altro forse a me sarebbe stato meglio un fondotinta più più neutro però quanto quando in primavera questo sarà perfetto perché però prendo un leggerissimo colorito divento un pochino più gialla devo dire che non mi dispiace rimane abbastanza naturale come effetto a differenza con lo Stay Naked a essere proprio pignoli cioè quello mi piace di più perché secondo me all'esterno alla luce naturale quello rimane ancora più naturale però non è male devo dire che l'ho usato volentieri al posto del fondotinta di Urban Decay coprenza media secondo me è leggermente meno coprente dello Stay Naked però ribadisco è un fondotinta onesto cioè per quanto costa poi costano quanto costano 10,90 tipo sono dei fondotinta abbastanza low cost secondo me è più bello l'effetto dell'altro del bear with me come si chiama quello però è più leggero però quello è più ancora più naturale sul viso poi non lo vedo eccessivamente luminoso secondo me è un luminoso accettabile anche per una pelle mista è ancora accettabile se me lo ricordavo è anche più scuro il colore è abbastanza matcha abbastanza lo chiudiamo mi piace devo dire tantissimo la boccetta perché secondo me fatte così sono le migliori certo che il problema è che quando vi fanno pagare tanto un fondotinta non ve l'aspettate nella boccetta perché visivamente non dà un'idea di costoso però per esempio Fenty Beauty si Fenty Beauty ha avuto comunque li ha fatti nel flaconcino nel tubetto si è meno figo della boccetta di vetro ma chi se ne frega cioè l'importante però non tutti ragionano così e poi l'è il problema allora correttore correttore proviamo insieme il Dior Forever Skin Correct che è il nuovo il nuovo correttore di Dior io ce l'ho nel colore 1N l'ho provato solo una volta ha l'applicatore enorme l'ho provato solo una volta e non l'ho ancora capito quindi in realtà io lo voglio provare anche come fondotinta perché come dicevo anche nel video per esempio con quello di Too Faced mi sono trovata da Dio come fondotinta lui perché questo è un multiuso mi sembra meno secco di quello di Too Faced su di me però ci vuole un po' per valutarlo diciamo che a primo utilizzo non mi ha diciamo entusiasmata come per esempio già a primo utilizzo mi ha entusiasmata quello di Tarte e quello di Urban Decay comunque il colore state attenti se decidete di provarlo perché io l'ho provato diversi l'ho provato sulla mano questo sembrava chiarissimo ma ho notato che dopo un po' si ossidava e badate bene che a volte è vero che si ossida sulla mano ma non ho detto che si ossidi sul viso questo si ossida anche sul viso quindi non è così chiaro come sembra come mi sembrava il negozio meno male perché almeno col colore c'ho azzeccato allora dato che non è molto illuminante metto un pizzico anche del nuovo correttore di NYX della stessa linea il Born to Glow lo metto però solo poi un giorno devo provare questo correttore da solo perché adesso l'ho provato anche ieri l'ho provato ma l'ho provato sempre così con questa funzione devo vedere se qui per caso segni oppure no allora ciprie perché dico ciprie perché voglio utilizzare visto che mi piace questa cipria di Catrice Glow Illusion Loose Powder è strana perché sembra arancione ha un dosatore così quei buchi però ne esce talmente poco ma la cosa è positiva perché così ne prelevate la giusta quantità lo prelevo la prelevo con la spugnetta con la stessa spugnetta che ho fatto per il correttore e la vado ad applicare qua devo dire che fino adesso con i correttori i miei preferiti si è comportata benissimo quindi con Tarte con Urban Decay eccetera e allora ho detto why not proviamo mi sembra che di suo Levigy un pochino è una cipria da niente da pochi euro io non mi ricordo da chi ne avevo sentito parlare però ovviamente non la uso su tutto il viso perché questa è luminosa ma è un bel luminoso il luminoso non è glitter riflette semplicemente la luce e non è bianca quindi non sbianca sul resto del viso sempre lei e sempre con il pennello ovviamente il pennello della vita e praticamente uso sempre solo quella che c'è già nel tappo questa è già pure troppo tra l'altro andiamo al bronzer vi ricordate quando nel video della postazione make up vi dicevo che bronzer ne avevo solo tre che mi bastavano quelli eccetera subito smentita perché ho ordinato su Amazon questa io in realtà questa l'ho già avuta solo che l'avevo straconsumata non finita però le ultime cose mi siano sbriciolate ed era inutilizzabile e allora ho deciso di ricomprarmela perché è fantastica e ho preso la deep bronzer deep bronzer il colore io non mi ricordavo che colore avessi prima però vedendo le foto mi sembravano tutte chiare vi confermo che in realtà io avevo quella più chiara però vi dico sinceramente a volte era fin troppo chiara non riuscivo cioè dovevo insistere parecchio allora ho detto sai che ti dico prendiamo direttamente la deep e tagliamo la testa al toro vediamo come risulta la godura di mettere questo prodotto non sono stata neanche andarla a cercare nei negozi perché cioè è sempre devastato lo stand di Physician Formula quindi non ne parliamo ah questo è un pennello di Real Techniques sì decisamente preferisco questa e già so che questa la consumero tantissimo perché veramente si sfuma in un attimo l'effetto è bellissimo non ha nulla da invidiare alle beige di Chanel anzi secondo me siamo lì però 50 euro contro 16 io ho pagato 17 euro e spicci su Amazon blush io direi di mettere questo di la masca che è il bag che è abbastanza freddo lo metto con il blush brush e come illuminanti la monotonia ragazzi cioè è veramente difficile che mi schiori da questi prodotti e potrei sbagliare ma secondo me sono diventati permane sono permanenti perché ho visto che li hanno riassortiti per dire anche sul sito di Pinalli i colori che erano sold out sono tornati in negozio si trovano quindi immagino che siano permanenti e lo spero perché io li ho visti in tutti allora tutti quelli che hanno provato sto prodotto l'hanno messo nei top 2019 ci sarà un motivo io penso che questa sia una texture di illuminanti al momento che io non non trovo da nessun'altra parte poi non so se nel mondo esisterà qualcos'altro da cui hanno preso ispirazione ma vedete quanto è consumato questo insomma un giorno voglio fare una prova voglio provare a metterlo sotto quindi lo metto tipo prima di mettere il fondotinta lo applico nelle zone che voglio illuminare e poi ci metto sopra il fondotinta è venuta adesso questa idea chissà e poi ci metto un pizzico di ozone quello era amnesia questo è ozone lo metto solo nella parte più sopra giusto per raffreddare un pochino amnesia ma adesso stamattina vedevo che Andrea Andrea si ciao che Mr. Daniel aveva messo anche nei preferiti il truth che usa come blush mi sa che ci farò un pensierino perché sinceramente mi sconfinfera l'idea di stare come blush perché anche a me ultimamente stanno piacendo più i blush luminosi sulle labbra mi sa mi sa mi sa che metto lui gloss di houselapse questo è entranced ho paura che anche nel 2020 sarà caratterizzato dal gloss per quanto mi ricorda non lo so metto i rossetti e poi li tolgo oppure metto i rossetti opachi e poi ci metto il gloss sopra ho visto stamattina su trend mood che e lo sapevo infatti ho aspettato per quello che finalmente mettono in vendita i colori gli altri colori di fenty beauty tipo io voglio hot chocolate e mio cioè l'ho già comprato con la mia testa spero si sbrighino perfetto facciamo che mi sistemo un attimo i capelli anche se sono quasi fatti però devo un attimo dare una botta alla piega e ve lo faccio vedere alla luce naturale eccoci qua allora dai vi faccio vedere anche caso ogni tanto dietro però così si vede poco scherzo allora niente questo è il risultato finale la piega ragazzi di capelli parleremo parleremo perdonatemi perché ci vorrà un po' di tempo perché ho un progetto in corso un progetto mio non con aziende niente di che però insomma questo è intanto il trucco a me piace certo un argento ci sarebbe stato meglio però forse ne accostarà in solito questo colore luminoso dorato con un grigio freddo però ci sta anche cambiare questo è uno dei lacci in seta la piega mi piace un sacco così tra l'altro vabbè adesso già un po' scesa ma questa domani mi piace ancora di più così mi piace però io ho la fortuna che i capelli mi tengono abbastanza bene la piega e domani sarà ancora più più bella di solito questo tipo di piega mi consente di rimandare ancora di un giorno lo shampoo proprio perché mi piace di più dopo mi piace così mi piace anche semplicemente alzato un po' così ma ne parleremo però ho provato una cosa nuova vi farò sapere niente io con questo vi saluto tra l'altro ho approfittato a farlo da qua perché oggi c'è la luce fredda quella bolognese quella proprio la giornata di novembre anche di gennaio volendo in realtà niente io spero di avervi tenuto compagnia e ci vediamo al prossimo video ciao ciao